serata in salotto due fidanzati sono sul divano che stanno guardando un film in televisione un film di quelli catastrofici tipo fine del mondo insomma uno di fantascienza a un certo punto la ragazza si rivolge al ragazzo e gli fa senti amore ma se tu avessi solo un'ora di vita prima della fine del mondo che cosa faresti e ragazzo ma di certo tesoro fare l'amore con te sì ma negli altri 59 minuti se ti è piaciuto il mio video e vuoi vederne altri iscriviti al mio canale youtube cliccando sull'icona qui a destra ah dimenticavo è gratis